Buonasera da Fabio Ferri e bentornati Al consueto appuntamento con T-Sport Ultima puntata della settimana per noi Prima di concentrarsi sul weekend Weekend sportivo che vedrà la Fiorentina affrontare la Lazio In una partita decisiva per quanto riguarda i destini In Serie A della squadra di Montella La squadra di Montella che però oggi è reduce della grande vittoria Sulla Juventus nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Vittoria in trasferta e pensate era dalla stagione 35-36 Che la Fiorentina non vinceva in Coppa Italia contro la Juventus E oggi proprio al ritorno a Firenze I giocatori della squadra Viola sono stati accolti come eroi Noi vediamo intanto in rapida successione Le foto che ritraggono la squadra accolta Dalle sciarpe, dai colori della tifoseria Viola Una squadra che appunto come vedete è stata decisamente avvolta Dall'entusiasmo dei tifosi con le forze dell'ordine Che hanno avuto il loro bel da fare per tenere i tifosi lontani Dai giocatori giunti questo pomeriggio all'aeroporto di Peritola Andiamo adesso però a parlare proprio della gara contro la Lazio Con il prossimo servizio che è a firma di Francesco Benvenuti Concluso il primo giro di pista la Fiorentina in versione mezzofondista Si prepara al secondo step di una corsa lunga otto partite Che diranno tanto se non tutto della stagione Per la Coppa Italia sarà necessario attendere l'8 aprile Prima però quattro sfide di campionato e due di Europa League Il primo scalino è colorato di azzurro alle fattezze dell'Aquila E porterà la Fiorentina a far visita alla Lazio nel teatro dell'Olimpico Nell'inusuale appuntamento del Dinner Time Con la partita in programma lunedì alle ore 19 La saga Viola tocca dunque il suo secondo episodio In uno scontro diretto che sa tanto di pietra miliare Per quanto concerne il campionato I numeri parlano chiaro La trasferta romana è sempre stata un ostacolo ardo da superare Nelle ultime 23 sfide sono state appena quattro Le affermazioni di Viola con 5 pareggi e ben 14 sconfitte I ultimi tre punti sono datati 10 marzo 2013 I titoli di coda segnalarono lo 0-2 A favore della Fiorentina grazie ai graffi di Jovetic e gli Aic Mentre la scorsa stagione le due squadre si annullarono sullo 0-0 Il bilancio totale parla di 31 vittorie della Lazio 21 pareggi e 13 successi gigliati all'Olimpico Con 109 gol azzurri e 59 viola Separate da appena un punto La Lazio tra le mura amiche È la quinta forza del campionato Con 8 vittorie e 4 sconfitte Mentre la Fiorentina lontano dal Franchi Si posiziona dietro solo alla Juventus Grazie ai 24 punti raccolti in 13 trasferte Numeri da capogiro con il bersaglio Napoli E quindi terzo posto poco distante A dare ulteriore credito ad una partita speciale Che inevitabilmente sposterà gli equilibri Nella lotta per l'Europa Si dice che tutte le strade portino a Roma E nel calcio, almeno in casa Fiorentina Sembra proprio così Roma sarà la città sparring partner dei Viola Per tre occasioni nei prossimi dieci giorni Dopo la sfida di campionato con la Lazio Infatti arriva il doppio turno di Europa League contro la Roma La squadra di Vincenzo Montella Riparte dalla stessa consapevolezza della Juventus Essere arrivata a marzo in lotta su tre fronti Un traguardo ancora più straordinario Ripensando agli affanni di inizio stagione E all'infinita lista di infortuni Che si è abbattuta sul roster gigliato Un marzo di fuoco che parte con tante aspettative A livello di campionato A dare ulteriore gusto a questo rush finale Dopo la Lazio saranno Milan, Udinese e Sampdoria Le avversarie di Salah e Company Roma non è stata costruita in un giorno Ma in un giorno a Roma Molto del futuro italico della Fiorentina Verrà certificato per un mese Da vivere tutto d'un fiato Per dare forma ai sogni di un'intera città E allora seguiamo insieme il cammino della Fiorentina Con ovviamente un Viola Express speciale Andato oggi in onda alle 13.30 Una volontà da parte della nostra emittente Di seguire al meglio proprio le vicende della squadra Viola Ovviamente squadra Viola che continueremo a seguire Anche nel classico appuntamento del lunedì Con Viola Express Appuntamento che sarà proprio in coincidenza Con la partita contro la Lazio Andiamo adesso a parlare però anche dell'altra Toscana della Serie A di pallone Dunque andiamo a parlare dell'Empoli 13 giornate dal termine 8 punti di margine sulla zona retrocessione Tutto deciso? Non ancora ma quasi L'Empoli si mette ai cancelletti di partenza Della giornata numero 26 Con un miracolo da ultimare Domenica al Castellani Arriva una delle squadre più frizzanti del campionato Il Genoa di Giampiero Gasperini Settima forza in attesa dell'esito Sul rinvio della partita con il Parma Nel terzo weekend consecutivo Macchiato dall'affaire della società del presidente Manenti Gli azzurri cercano di proseguire la loro striscia positiva Dopo due vittorie casalinghe E tre pareggi lontano dal Castellani Nelle ultime cinque uscite Sono 24 i precedenti assoluti Tre Empoli e Genoa Nei numeri la spuntano gli azzurri Con otto vittorie Undici pareggi E cinque sconfitte Il Genoa non vince con l'Empoli Dal 19 dicembre 2004 Diciottesima giornata del campionato di Serie B Mentre per ritrovare un successo dei Liguri al Castellani Bisogna tornare al primo turno di Coppa Italia Della medesima stagione Quando i Rosso Blu si imposero 2-0 in trasferta Sarà il secondo incrocio delle due compagini Serie A In terra toscana Nell'unico precedente Datato stagione 2007-2008 Finì 1-1 con la rete di Giovinco per gli azzurri E la risposta del Genoa Firmata da Masiello nei minuti finali Nel match d'andata Medesimo punteggio Al vantaggio di Bertolacci Per la squadra del presidente Preziosi Rispose Tonelli ad un quarto d'ora dalla fine Si affronteranno inoltre La dodicesima forza del campionato in casa L'Empoli con 17 punti raccolti E la quinta fuori dalle mura amiche Il Genoa capace di ottenere 19 punti in 12 trasferte I Rosso Blu si sono ormai messi alle spalle Un periodo avaro di soddisfazioni Che si è consumato tra dicembre e gennaio Con appena tre pareggi ed altrettante sconfitte in sei partite E che ha lasciato poi campo a due affermazioni Con Lazio e Verona E al pareggio nel derby Ci sono tutti gli ingredienti per un match ad alto ritmo Tra due delle squadre più sorprendenti Di questi primi due terzi di stagione E per questo i due tecnici proseguiranno il loro percorso Anche a livello tattico Senza stravolgimenti dell'ultimo minuto Avanti con il 4-3-1-2 in casa azzurra Lo squalificato Isai sarà sostituito dal Laurini sulla corsia destra Mentre in attacco sarà Ciccio Tavano ad affiancare Massimo Maccarone Per il Genoa Il 3-4-3 Marchio di fabbrica di Gasperini Vedrà la probabile conferma di Roncaglia Nonostante il grave errore nel derby Che ha spianato la strada al gol del pareggio di Eder E l'utilizzo di Niang in attacco Accanto a Iago Falco e Perotti Un terzetto dinamico imprevedibile Dal talento cristallino Che ha segnato sette degli ultimi dodici gol del Genoa Genova sarà Caputmundi per il weekend calcistico impolese Oltre allo scontro diretto con il Genoa Gli azzurri seguiranno con particolare attenzione I 90 minuti del Ferraris Dove sabato alle ore 18 La Sampdoria sfiderà il Cagliari In caso di eventuale sconfitta degli uomini di Gianfranco Zola Il risultato del Castellani potrebbe mettere una pietra Sopra il discorso salvezza Al di là di ogni ragionevole dubbio Una bella motivazione aggiuntiva Per regalare al pubblico azzurro la sesta vittoria della stagione L'ennesimo tassello di un campionato Fin qui memorabile E parliamo adesso di volley femminile di Serie A1 Dopo la pausa dello scorso weekend Legata alle partite delle finali di Coppa Italia Tornano in campo sia la Savino del Bene Scandicci Sia il Bisonte Firenze Per due impegni importanti Soprattutto quello della Savino contro Montichiari Un impegno per cercare di centrare i play-off Dunque la qualificazione alla post-season Coach Bellano non lo ritiene il match dell'anno Ma per le ambizioni di play-off della Savino del Bene Scandicci La gara di domani al Palasport Jimmy Giorgio di Montichiari Sarà un crocevia importante L'ottavo posto è dunque la Montichiari di coach Leonardo Barbieri Dista solo 4 punti E il confronto diretto di questa settimana Potrebbe essere proprio l'occasione per ricucire Sull'ultima delle squadre al momento all'interno della zona play-off Prima della pausa legata alle finali della Coppa Italia Montichiari aveva vinto per 3-1 su il Bisonte Firenze Rinsaldando l'ottava posizione Anche per effetto della sconfitta della Savino del Bene contro la capolista Novara Ora però la Savino del Bene non può più permettersi di perdere punti E anzi dovrà cercare la vittoria contro Montichiari Una squadra che all'andata vinse al Palazzetto di Scandicci per 3-0 E che già lo scorso anno ha battuto la squadra scandiccese 3 volte su 4 La Savino del Bene, come ogni altra squadra che affronta Montichiari Dovrà fare attenzione alla schiacciatrice classe 1988 Berenica Tomsia che quest'anno, al suo rientro in Italia dopo due stagioni tra Turchia e Polonia Sta tenendo una media punti set che la colloca al quarto posto della speciale classifica Tra le bocche da fuoco di Montichiari non va però dimenticata la veterana Simona Gioli Centrale alla ventesima stagione tra Serie 1 e A2 Ma ancora in grado di piazzarsi al 17esimo posto nella classifica delle top scorer del campionato Se la Savino del Bene giocherà in anticipo domani Impegno domenicale invece per il Bisonte Firenze Che ormai certo della salvezza vorrà vendicare la sconfitta dello scorso turno Cercando il più possibile di mettere il bastone fra le ruote di Piacenza Squadra campione d'Italia in carica e al momento quinta in classifica con 32 punti La formazione emiliana ha vinto 13 partite su 18 Ma all'andata fu sorpresa dalla squadra di Vannini che al Palabanca di Piacenza vinse 1-3 Per battere le piacentine le ragazze di Vannini dovranno arginare Lisvan Ecke Miglior realizzatrice della Serie A1 nel 2012-2013 Ed oggi una delle migliori sette attaccanti del campionato con 4,39 punti per sette Weekend sportivo che però non parla solo di calcio e pallavolo Ma anche di rugby tornano infatti in campo le Toscane della Serie A La Serie A di rugby dopo la pausa legata agli impegni del 6 nazioni Torna in campo questo weekend con due impegni fondamentali per le due compagini toscane Del secondo livello del rugby italiano Per il Firenze Rugby 1931 dopo i disagi legati al forte vento Che ha reso impossibile le attività al Campolo di Gianni nella giornata di ieri Tutto sembra pronto per la gara di domenica contro l'Unione Rugby Capitolina La società è infatti già a lavoro per risistemare i danni riportati dalla struttura E per domenica non sono previste variazioni di campo La squadra di coach Marco De Rossi, reduce dalla vittoria esterna su Piacenza Ha lavorato molto durante la settimana di stop E si è preparata per la gara contro la capolista del girone 1 della pool retrocessione L'Unione Rugby Capitolina ad oggi ha 14 punti Avendo vinto 3 delle 4 gare di questa seconda fase di campionato E nell'ultimo turno ha avuto la meglio sul Cus Genova Battuto con il risultato di 22 a 17 Capitolina e Firenze Rugby si sono già affrontate due volte in questa stagione Entrambe nella prima fase del campionato Al primo confronto, datato 5 ottobre 2014, si impose la squadra romana per 17 a 15 Nella gara di ritorno, disputata a Firenze il 9 novembre 2014 Fu invece Firenze ad averla meglio, grazie ad un 21 a 19 Per Firenze, attualmente quarta con 9 punti Replicare quel risultato vorrebbe dire mettere una distanza di sicurezza Tra sé e le ultime due del girone, destinate alla retrocessione Per il Prato Sesto, questa quinta giornata sarà invece il momento Per vendicare la sconfitta di misura subita contro il Gran Sasso Un'occasione per tentare di ottenere la prima vittoria nel girone 1 della pool promozione Anche se l'avversario di turno sarà la seconda forza del girone, il Rugby Lions I Lions sono reduci dalla vittoria esterna sull'Accademia Nazionale Ivan Francescato Ed ospiteranno al Beltrametti di Piacenza la squadra di Otano e Wakarua Alle prese con molti giocatori, non al meglio della condizione Ma probabilmente tutti convocabili Gli acciaccati di varia natura sono Boscolo, Natali, Ciolli e Fabio Nannini Che però stringeranno i denti Probabile inoltre il reintegro fra i 23 di Dario Broggi Che torna a disposizione dopo un periodo di assenza per motivi lavorativi Cocciotano alla vigilia della gara ha dichiarato Ci brucia ancora la sconfitta interna con Gran Sasso Non rimprovero niente ai ragazzi Perché so che finora non abbiamo mai preso batoste Ma ceduto maggiormente per motivi di inesperienza A Piacenza spero in un loro turnover E su una gestione tattica del match intelligente Sarà fondamentale tenere lontani i pericoli con un buon uso del piede Concludiamo parlando di altri impegni del fine settimana Per le compagini toscane Partendo con la palla a nuoto La Rari Nantes impegnata nel campionato di Serie 1 maschile di palla a nuoto Affronterà l'SS Lazio Nuoto domani alle 18 Presso la piscina Bella Riva di Firenze Un impegno quello della palla a nuoto della Fiorentina Della Rari Nantes Florenza Sicuramente importantissimo Perché proprio la Lazio è una delle squadre in corsa per la salvezza con Firenze Firenze che però deve cercare di vincere gli ultimi impegni di questa parte di campionato Altrimenti sarà veramente dura centrare la salvezza E dunque la permanenza in Serie A Per quanto riguarda poi la palla a mano È partita, anzi questo fine settimana Parte la seconda parte di stagione Con la palla a mano Ambra Che affronterà Carpi Nella seconda fase del girone B Della Serie A di palla a mano Anche questo impegna appunto alle ore 17 domani Concludendo infine Primo impegno dell'anno invece per I Guelfi Firenze Squadra di football americano Impegnata nel campionato di seconda divisione Ferma nella prima giornata Nella giornata inaugurale di questa stagione della LENAF Ebbene la squadra di coach Paciaroni Scenderà in campo questo weekend Proprio domenica 8 alle ore 15 Proprio sul campo di Forlì Per affrontare i Titans Romagna Formazione che i Guelfi conoscono bene E che hanno affrontato anche nelle scorse stagioni Per l'obiettivo dei Guelfi di quest'anno Sarà sicuramente cercare di centrare i playoff Dopo la sfortunata stagione dell'anno scorso Io vi ricordo che tutte le partite interne dei Guelfi Firenze Sono ovviamente visibili sul nostro canale Ovvero sul 96 del digitale terrestre Con questo abbiamo davvero concluso per stasera Io vi auguro un buon proseguimento di serata Con i programmi di Teleiride E vi invito a seguirci di nuovo su T-Sport Il prossimo lunedì Con tanti tanti aggiornamenti sul mondo sportivo Il prossimo lunedì